Musica E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui e vi faccio vedere questa nuova uscita della The Sherlock Holmes Collection Siamo arrivati al numero 28 con i banditi di Palermo Andiamo ad aprire subito il libro Andiamo a togliere la plastica Ed eccolo qua ragazzi Bellissima collezione questa di Sherlock Holmes Con tutti i libri della storia del famoso detective Questa è la copertina di Sherlock Holmes Collection I banditi di Palermo Gennaio 1909 Qui abbiamo il laterale Qui abbiamo il retro che è più o meno uguale con Londra Andiamo a vedere un po' L'interno del libro Qui vediamo una prima illustrazione Bellissima I banditi di Palermo Il barbiere di Mr. Sulvan Due nuovi casi di Sherlock Holmes Illustrato da Alfred Roloff The Sherlock Holmes Collection Il libro che contiene Due casi Ed è composto da 189 pagine Ecco qua Il libro ragazzi E niente Mettetevi un piaccio Commentate Iscrivetevi al canale E noi come sempre Ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti belli Ciao a tutti